Aldopia è il nuovo presidente dell'ASCOM di Asti. Dopo alcune polemiche che hanno fatto slittare l'assemblea provinciale di un paio di settimane, la nomina è avvenuta ieri pomeriggio per acclamazione nel corso della prima riunione del nuovo consiglio eletto domenica scorsa. Aldopia, farmacista, attualmente anche presidente della Cassa di Risparmio di Asti, sarà coadiuvato da una giunta esecutiva composta da Giorgio Guasco del settore alimentare, Enrico Fenoglio agente immobiliare, Daniele Scarpa Orologerie e Maurizio Rasero in qualità di presidente della società di servizi dell'ASCOM. E la più grande cantina sociale di trasformazione delle uve Barbera d'Asti del Piemonte, la cantina Barbera dei Sei Castelli, celebra il suo mezzo secolo di vita. L'appuntamento è per domenica ad Agliano Terme, sentiamo. Quest'anno ricorre proprio 50 anni di attività della nostra cantina e per cui domenica 11 luglio abbiamo deciso di festeggiare questi 50 anni di Barbera. Infatti la cantina sociale è stata costituita nel mese di gennaio del 1960 con circa 80 soci. Nella sede storica, cioè in Agliano Regione Saliera numero 6, alle ore 16.30 ci sarà il taglio del nastro e l'inaugurazione dei locali nuovi. Dopodiché ci sarà un piccolo riconoscimento ai fondatori attualmente viventi e poi sarà la banda musicale di Agliano che farà il suo intervento. Dopodiché fra i vari saluti dell'autorità si passerà qui all'Opersina dove ci troviamo per un grande buffet. C'è un ampliamento notevole della parte di vinificazione e stoccaggio, in particolare dedicata alla vinificazione dei vini rossi e quindi chiaramente alla Barbera d'Asti, dove c'è un ampliamento di vinificazione per 20 mila quintali di uva lavorata, noi oggi possiamo pigiare tranquillamente dai 7 o agli 8 mila quintali di uva al giorno. Sabato sera a Vaglierano d'Asti torna la corrida, vediamo il programma di questa divertente manifestazione a scopo benefico. La traccia della manifestazione è sostanzialmente sempre la stessa, come si dice squadra che vince non si cambia, infatti i presentatori saranno sempre Gianni e Nadia, avremo sempre presenti i ridenti di Mundo da San Damiano, abbiamo due nuove vallette quest'anno per avere qualcosa di nuovo comunque. La serata come sempre propone dilettanti allo sbaraglio, divertimento assicurato per tutti e da non dimenticare il discorso benefico della serata. La corrida è un progetto, è un progetto che va ad abbracciare altri progetti, quest'anno il progetto è l'Uganda e ci siamo affidati ad un'associazione astigiana, è un'associazione di medici infettivologi, si chiama Idea Onlus, è stata fondata nel 2009 da medici dell'ospitale Cardinal Massaia di Asti e loro operano in Uganda proprio per contrastare e cercare di curare l'AIDS. Gianni e Nadia vi aspettano alla corrida sabato sera alle ore 20 e 30, iniziamo con il concerto dei microbiologicamente puri, se volete venire per Gianni o se volete venire per... Nadia, vi aspettiamo, sarà una serata indimenticabile, bellissima come tutte le altre e ricordo quello che è il nostro progetto, un progetto solidaristico, quindi unite divertimento a solidarietà. Vi aspettiamo, grazie. Chiudiamo velocemente con un appuntamento per domani sera, venerdì a Moasca dove si tiene Nero di Stelle. Sulla piazza del Castello sono attesi tutti gli appassionati di vino, musica ed astronomia. Si potrà osservare il cielo con i telescopi, degustare barbere cortese con salumi, formaggi ed agnolotti, ascoltare musica e poesie. E con questo da Asti è tutto, grazie per averci seguito. La linea torna allo studio.